Nella sua vita si è sempre impegnato per la promozione del dialogo e della pace anche in luoghi e momenti storici particolarmente delicati, come la gestione di quello che è considerato il periodo di più aspra contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica della Guerra Fredda, la crisi dei missili di Cuba. Stiamo parlando di Monsignor Cesare Zacchi, illustre figlio di Ortignano Raggiolo, piccolo paese del Casentino, la cui storia verrà ricordata domani pomeriggio, venerdì 21 agosto, alle 17 presso i locali dell'Ecomuseo di Raggiolo, in occasione dell'anno centenario della nascita. Un'iniziativa ad un tempo civile e religiosa fortemente voluta da Monsignor Riccardo Fontana e sulla quale non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Ortignano, Ivano Versari. Tra i ruoli di altissimo onore ricoperti da Monsignor Zacchi c'è appunto quello di incaricato d'affari ad interim dell'Annunziatura Apostolica a Cuba. Quindi fu nunzio della stessa dal 1960 al 1975 e successivamente presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica e Canonico Vaticano. Monsignor Fontana, ai tempi in cui egli stesso era allievo della Pontificia Accademia Ecclesiastica, l'istituzione romana che da oltre 300 anni forma i sacerdoti destinati al servizio della Santa Sede nelle rappresentanze pontifice, conobbe molto bene Monsignor Zacchi e lo ricorda con affetto e devozione. Ho avuto personalmente l'avventura di avere l'Arcivescovo Zacchi come maestro di vita e superiore nella Pontificia Accademia Ecclesiastica e sarò lieto durante l'incontro a Raggiolo di aggiungere al suo ricordo qualche elemento per ricordarne le doti sacerdotali, umane e diplomatiche. Alla commemorazione seguirà una messa in suffragio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.